ahahahah Arnold, chi è? 8 sotto un tetto ma perchè? vai ok e con... questo lo sai ciao via 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 questo è anche questo sono morto 40.000 volte adesso no no, non vuoi andare a dire la testa è esplosata no sei morto, sotto la testa sei pure morto siamo esplosi no perchè per un mettere avanti no 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 devi saltare al momento giusto salta salta ma anche lui ha saltato più veloci eh stroncia ma qual è la cosa? ahahah quelle volate sto vecchio te lo porti niente no il budellino aspetta aspetta che magari vinci aspetta 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 è la testa di qualcuno è arrivato è arrivato è salmonellando tutti dalla marmitta c'è la testa ancora in giro ma perchè va avanti ok ok quindi ero arrivato forse si è possibile quello vola sempre in su questo attenzione che l'altra volta siamo stati uccisi questo è esploso oh oh un piede ah ma devo già andare si si devi andartene via cos'era quel budello merda ah mi sa che è sbagliato guarda quando scendi giù vedi vedi vai indietro ok ok ma cos'è sto vecchio lì ma cos'è sto vecchio lì che saltalo ok quello ti ammazzo con ok perchè c'hanno le mani lì 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 ok c'è il signor di prima c'è il babbo natale lì sopra e c'è un sacco di morti dai dai aspetta va e devo farlo appunto giusto nooo che schifo ed è ancora incollato è ancora incollato vai 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 andare no vai andare a farla vivo ah esploda e non c'è la roba tanto guarda vediamo subito che proviamo ad andare un attimo indietro ma forse dovete cosa stai facendo babbo natale e ho avuto indietro era torna attento mi l'abbiamo già ucciso meno male la bambina cosa voleva cosa doveva fare aaaah mi ci ha fatto girare ci sta girando possiamo con la z mi sembra che saltava no no con lo spazio però ma posso portare indietro il carretto mi sa che sei bugato no no ti sei è partita la testa devi saltare in penna ecco così quando salto tu in penna abbiamo preso un pezzettino cos'è stop it ti ha aspettato fermati poi guarda questo sembra quello di joseph lo facciamo tutto in mono potrà morire lì il personaggio guarda guarda questo vola vai 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 aia vediamoci cosa succede? il bambino è lasciato là occhio hai perso una mano vai tutto impennato ma volano quelle cose sono dei jetpack devi farla tutta di corsa in penna guarda guarda ce ne sono altri ma quanto sei andato in su ce ne erano un casino di roba bambino vado a cercare aiuto vado a cercare aiuto timmi rimani lì pezzi di gambe di altre persone casino eccolo ma cosa è un bambino spam così ha il pelo impennato guarda i piedi guarda i piedi guarda i piedi di questo uomo mamma mia no ma tanta roba lo stesso venga è proprio andato guarda 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 che tenta ancora tenta ancora e e e oh mamma mia brumotti brumotti la bombazza brumotti 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 attento ci sono ahia tanto brumotti mi ha tirato in volo sono ancora lì ahia eh eh niente devi prendere la giusta rincorsa eh ho visto ma l'ho tenuto per un pezzo eccolo eccolo attento 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 ci scendo bene ci scendo bene e ci sono sceso troppo aspetta brumotti è morto no 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 faccio già restart eh ch haste che tanto fung'è tutto lì che vola Non ci arriveremo, ecco, ecco No, no, la faccia, la faccia Manca miseria Devi tenerlo E' diventato un piccolo Una fettina Vai, tienilo, tienilo, tienilo Troppo rientro Poco 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 Esatto, ok, ok Aia, troppo lento Ehi, ma come fai? Farti trasportare che poi ci arrivi a bombazza nell'ultimo pezzo Aiaia Ma cosa c'è con la filo lì? Le budella, credo L'intestino No, un casino Il cappellino No, perchè poi guarda l'antico Dove sei andato? Non lo so Si è riuscito a... Mizzicabam Guarda, guarda C'era proprio una salsiccia